Un ricordo di Berlusconi, visto che non è più qui, cosa lascia al di là del ricordo tuo se ne hai uno o se vuoi condividerlo, ma cosa lascia come eredità, per eredità non parlo di soldi, lasciamoli da parte, sono affari di famiglia, poi sappiamo molto bene di che patrimonio stiamo parlando, io parlo dell'eredità come uomo e come politico, imprenditore. Io ho lavorato molti anni con Berlusconi e non posso neanche dire una parola contro di lui perché con me è stato generoso, sempre corretto, non ha mai preteso che scrivessi delle cose che mi suggerisse lui, non è mai successo niente. Poi devo dire una cosa che non tutti ricordano, questo signore si è laureato giovanissimo e poi immediatamente dopo essersi laureato ha costruito Milano II che è la città satellite più bella d'Europa, non l'ha fatta lui, non l'ha fatta mia sorella, l'ha fatta lui. Dopodiché finita Milano II si è buttato su Milano III che è un po' meno bella perché è più periferica ma comunque è un'altra città satellite molto importante e che ci è stata invidiata da vari paesi, qualcuno ha anche tentato di imitare Berlusconi. Dopodiché cosa ha fatto Berlusconi? Ha inventato le televisioni private, prima non c'erano, comunque erano piccoli emittenti di provincia che non riuscivano a sfondare. Berlusconi ha cominciato con Canale 5 che poi si chiamava Telemilano, non ricordiamo questi dettagli. Poi si è comperato Italia 1 da Rusconi e poi si è comperato Rete 4 dalla Mondadori. Da notare che alla Mondadori l'avevo venduta io la televisione e avevo anche guadagnato un bel po' di soldi perché non sono cretino che faccio le cose gratis. Comunque tre televisioni che hanno superato anche la RAI per gli ascolti, questo si è fatto da Berlusconi abbastanza giovane. Poi ha creato una banca formidabile insieme con Doris che è Mediolanum, che anche adesso è una delle banche più importanti del continente. Poi non soddisfatto si è comperato il Milan, una squadra di calcio. Il calcio sappiamo che in Italia è importantissimo a livello proprio popolare e con quella squadra Berlusconi ha abbattuto tutti al mondo, cioè non c'è nessun presidente di società calcistica che abbia vinto quanto lui e anche questo mi sembra un risultato abbastanza apprezzabile. Finito tutto ciò è cominciata Mani Pulite come ricorderai, Mani Pulite e quindi la distruzione del pentapartito si era rimasti senza un avversario dei comunisti. Li chiamo comunisti perché erano comunisti. Allora lui che cosa ha fatto? Ha creato in tre mesi un partito che si chiama tuttora Forza Italia. Ha fatto un nome che ha rubato a me perché io facevo un programma televisivo sulla televisione di Tanzi, insieme a Zenga e altri. E si chiamava Forza Italia? Si chiamava Forza Italia. Quindi mi ha ciulato anche, però la cosa non è che mi sia dispiaciuto, la cosa è che me ne frega a me di Forza Italia. E quel partito creato in tre mesi vinse le elezioni. Allora ditemi chi c'è in Italia che ha fatto tanto come lui. Poi avrà sbagliato, avrà commesso qualche scoletezza. non lo so, io questo non voglio neanche un ragazzo. Ma porca miseria, ma uno che ha fatto tutte queste cose non puoi dire che è un pirra, vai!